...al Genoa, qualcuno dice che è già firmato e Sean Soiano porterà con sé molto, molto probabilmente Sansone al Genoa. Sì, di Sansone abbiamo detto, io ti tengo sempre... ...perche già sia tutto confezionato. Sì, sì, su Sansone ne abbiamo parlato. Io ti confermo comunque quella proiezione legata all'Omonaco, che comunque ha avuto una proposta di quattro anni, l'allenatore sarebbe comunque De Canio, tra De Canio e l'Omonaco c'è un grande rapporto di amicizia, al punto che prima di pensare a Montella aveva pensato allo stesso De Canio, vediamo quello che accadrà alla Fiorentina, perché l'Omonaco ha avuto dei contatti, come avevi detto tu anche con la Fiorentina, ma ti confermo le proiezioni l'Omonaco-Genoa.